Buon pomeriggio, ci troviamo alla cittadella dello sport di San Puceto, frazione di San Giovanni Tiatino, gara di campionato allie giovanissimi, qua c'è la Virtus Castelfrentano con la seconda maglia bianca con risvolti giallorossi, c'è il mister Giovanni Di Giulio, siamo arrivati in ritardo in quanto con il pulmino c'è scoppiata una gomma sull'autostrada, abbiamo dovuto aspettare soccorsi, un altro pulmino, cambiare e arrivare, siamo arrivati alle 17.30, abbiamo consegnato le distinte, in quanto la gara doveva cominciare alle 17.00, qua c'è il nostro portiere, qua ci sono i ragazzi con la classica maglia viola del San Puceto calcio, prima in classifica, qua i ragazzi stanno un po' pure scossi, specialmente quelli che sono venuti con me, adesso ho qualche minuto di riscaldamento che l'arbitro ce l'ha concesso, si stanno riscaldando, ma si può dire che si sono riscaldati il gruppo mio sopra l'autostrada che l'ho fatto posizionare su un parapetto per motivi di sicurezza, in quanto avevamo una corsia, una corsia d'emergenza proprio stretta, ecco facciamo rientro per l'appello.